Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con Evalox, oggi sono qui per portarvi un nuovo video su Infinite Warfare. Oggi ragazzi sto registrando, innanzitutto questa intro prima, cioè scusate, dopo aver registrato il gameplay perché, non lo so, volevo fare così oggi. E niente, in cosa acquisisce questo video? Come al solito andremo in TCT e cercheremo di fare di TCT molto rapidi. Vi dico, saranno veramente delle partite molto molto carine a parer mio, guardate tutte e soprattutto l'ultima, ma fidatevi, sono uscite tre partite secondo me veramente carucce, merito della 100 mega. Vabbè, lasciate un like e ci becchiamo in partita, bella. Ok ragazzi ci siamo, prima partita, purtroppo ho una voce un po' di merda, l'intro la farò dopo al video, infatti il livello sicuramente sarà diverso, però lo faccio dopo. Avrete già capito quello che devo fare perché ve l'avrò già spiegato nell'intro, comunque siamo pronti, carichi. Sono molto freddo oggi, ve lo dico, molto molto freddo. C'è un freddo della madonna fuori, quindi si parte dalla prima che... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma cosa cazzo è successo, raga? Quando inizio a vedere esplosioni così, vi giuro, mi sarebbe proprio... Lo schifo, raga. Dove sono i nemici? Madonna. Madonna mia ragazzi. Ma... Niente. Ma che cazzo è successo. Mamma mia ragazzi Scusate sono stato zitto ma Scusate raga ma Sono andato in Dallità concentrazione estrema Porco Giuda Porco Giuda Ma che cazzo Che casino Mamma mia ragazzi No sono morto Cristo Mamma mia ragazzi Che portello in un attimo Cazzo addosso Ma non killano ste cazzo di streak Non killano Le uso per nulla Mamma mia Mi ha fatto una feed di kill Immensa ragazzi Siamo a 27 Il secondo è a 8 Ho anche le streak da chiamare Ma se mi fermo Ho perduto più tempo secondo me Tanto vale farle Manualmente Vabbè tiriamo 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 dai Così A caso C'è una torretta qua E vabbè Andiamo a morire per la torretta Raga 28 kill La torretta di merda Ma che cazzo Niente ragazzi Abbiamo sputtanato la partita Era perfetta sta partita Era proprio perfetta Sta cazzo di torretta di merda Vabbè Non so quanto è durata E sinceramente Non ho la più pallida idea Ragazzi Non poco Comunque Non poco Però è stata una devastazione Allucinante ragazzi Allucinante Cioè ho fatto Minchia Miliardi di kill In un attimo Ragazzi Ho fatto una streak Altissima in pochissimo Va bene Ci becchiamo tra poco Con la prossima partita Ok ragazzi Seconda partita Mi scuso ancora una volta Per la gola in fiamme Ma purtroppo Non ci posso fare nulla Speriamo che Passi Allora Stapa Va bene con l'NV4 Ragazzi Con l'NV4 è perfetta Ho le mani Lo stesso congelate Perché oggi fa un freddo Del cazzo Ragazzi Assurdo Veramente assurdo Allora Ne avremo sicuramente Due dietro E uno qua sotto Quindi Procediamo a prendere Questi qua Ok vabbè niente Si inizia dal contrario Dalla prima kill Lo sapete benissimo Lo dico ogni volta Quindi da ora E anche dalla prima Ok E vabbè Oh cazzo Mamma mia ragazzi Cosa stava per succedere Cosa cazzo stava per succedere Comunque ho il pad Che dà problemi Non riesco a saltare Non so perché Maffanculo Va bene va bene Non c'è problema Non c'è problema Qua non c'è nessuno E c'è sto qua Mori Ok Siamo qua ragazzi Sapete che spawnano Manette Vengono a prenderci In teoria Ok Andiamo avanti là Perché non vedo Che non spawnano più Quindi Andiamo a prenderlo Cerchiamo al cazzo In poche parole E vabbè Ce lo devono rubare Chiaramente Dov'è sto tipo Oddio raga Oddio Che triste Mamma mia Ma tutti i vermi Sta partita Che palle però Perché qua Deve essere popolato Da gente che sta ferma Negli angoli Che cazzo mi spara Questo silenziatore Qua non c'è nessuno Ma c'è lui in realtà Ok E ci sta abbastanza dietro Il secondo Per te di prima Le abbiamo dato uno scarto Molto più grande Ste morti di merda Ste morti di merda Ragazzi Ok abbiamo questo almeno Mori Mori Qua Mori 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 Ok Mori Qua Mori Ok Guarda come tu cazzo Mi stai inseguendo raga Atro Ma che cazzo Ma questo è morto Mamma mia No No Cazzo di Volk No Lo uso da una vita raga Aspetta un po' A caso A caso proprio Due kill Un'altra Let's go Questa È stata secondo me Veloce Secondo me raga Va butto lì Abbastanza veloce Non so quanto però Non è andata male sicuramente Abbiamo fatto anche qui una streak molto rapida Mi piace troppo fare sti video raga Vi giuro Mi devo proprio un botto a giocare tct Per fare i partiti veloci Lo sapete che sono uno molto adrenanico Quindi Queste cose mi gasano tantissimo Va bene Ci becchiamo ragazzi Alla prossima e ultima partita A tra poco Ok ragazzi Ultima partita Terminal Merda Terminal il peggio Per fare sta cosa Però va bene Che cazzo ci devo fare raga Non è che posso Farci qualcosa Ah è già iniziata tra l'altro Va bene Ultima partita di oggi La cerchiamo di cambeccare Cerchiamo di cambeccare questo 16 Questo 0-16 Ce la farà il nostro Velox A recuperare Questa partita No Dico io no Non c'è nessuno Eh 18 il tipo Perfetto proprio Dove cazzo sono tutti Madonna mia Mori E a 18 ancora Possiamo attirarli qui Ma ci vengono a prendere Le amazziamo Non è una cattiva idea Anche perché ci sono armi Quindi Amore Ok Siamo sotto di tantissimo Ok Perfect Scorcher Strict varie C'è uno qua raga Ok Elicottero Mamma mia Che bordello Sta partita ragazzi E a 21 Il tipo E' molto difficile Sto cambec Però ce la siamo Per far Forse Merda mi hanno ucciso Ero 16-0 ragazzi Non me ne ho nemmeno Accordo vi giuro La tecnica di attirarli Lì aveva funzionato Stavano arrivando tutti A satanati più che mai E a 23 Minchi Porca Com'è fatto a prendermi così E mo So cazzi So cazzi E a 23 Ah bello I love this game I buchi neri E ancora 23 ragazzi Però non li sto più trovando E questa è la cosa che mi spaventa Dove spawnano Dove cazzo sono Non lo so Non lo so proprio Ah ah beh La fortuna di Velox Sempre pronta No raga Anche se non ce la dovessimo fare Però E' stato uno start magistrale Sarei comunque felice Sarei comunque felice Mori Mori E abbiamo un altro dietro Ovviamente al silenziatore Cristo Dio Mamma mia Quanto rossi quando gioco a COD Ma è un rossi cari continuo Cioè Io non è che raggio Cioè che mi incazzo spacco tutto Però è un Oltre che muoio Mi viene spontaneo Proprio Riporco 2 Per sfogarmi E' quasi una cosa Obbligatoria per sfogarmi E giocare magari meglio Poi c'è la fase Va bene qui Magari il raggio malissimo Sono rare le volte E lì E lì Cosa mi ha ucciso Scusate Ah il cecchino cappera Madonna mia Madonna mia Madonna mia Solo da dietro mi ammazzo Guardalo Eh vabbè Non ho parole raga Ma che cazzillo B sta qua Ultime 2 kill Ultima No Stavo facendo switch gun Mamma mia Ho fatto lo switch gun Triangolo Triangolo Ultima kill Ultima kill Vediamo Trovarlo però E' a 29 E' a 28 Il secondo Mamma mia Come becca Signori Mamma mia Va bene ragazzi Spero avete apprezzato Questo episodio Come sempre A lasciare Un bel like Fatemi sempre se volete vederne altri E ci becchiamo alla prossima Bella ragga Ciao 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 Ciao